buongiorno pippo eccoci qua in questa morning routine un po particolare perché pippo è di nuovo a casa con calcio con calcio purtroppo prende ciao milu saluto a tutti ciao titolo perché avevo caldo e poi ho fatto la doccia quindi sto qua infatti allora sto fotografando milu perché è bellissima vabbè allora siamo qua in morning routine ne approfittiamo per farvi vedere un po la morning routine da malato di pippo come vedete si è alzato già abbastanza tardi sono le nove e un quarto vabbè ragazzi secondo voi da quando parte il tardi per alzarsi infatti ecco sentite che bella tosse che ha ieri abbiamo fatto una live su tina e pippo vi lasciamo qui il link se ve la siete persi e dove pippo appunto diceva di avere questo male alle tonsille e difatti era già casa dai e già a casa da ieri praticamente ieri oggi ma abbiamo già fatto colazione da quel che vedo quindi un bel corsano all'albicocca e tu non lo sai ma ti ho preso una sorpresa da spacchettare uno spaccettamento in tema proprio con il canale di pippo e tra l'altro di un argomento che tanti ti stanno richiedendo un gioco che non fai da un po' adesso vediamo un attimo ti porto il box e vediamo che cosa ne pensi eccomi qua con la sorpresa allora vediamo un po' e voilà come vedete ragazzi sono dei personaggi di brawl stars ma quant'è che io non gioco a brawl stars wow guardate che belli i personaggi collezionavano i brawl stars allora pippo curioso so il nome di tutti me lo ricordo più o meno puoi vedere solo di dell'ultimo qua non mi ricordo ce n'è ben 24 di cui alcuni rari non mi ricordo il nome solo di e vabbè adesso vedremo penso che ci sarà scritto ogni bustina costa 3 euro e 99 naturalmente li trovate in edicola e sono di agostini allora guardiamo un po' spacchettiamo un po' perché un po' che non spacchetti voglio trovare corvo a parte le figurine un po' che non spacchetti vediamo un po' perfetto Jackie mi sembra ah bellissimo guardate ragazzi puoi vedere che bella questa piace a me esploratrice cos'è no sembra un ingegnere cos'ha il fucile aspetta che non riesco a vedere no un ingegnere ah un ingegnere bellissima guardate con le codine dietro rosse bellissima questa bella partiamo con una donna e questo mi fa veramente immensamente piacere allora apriamo un po' ma quindi cosa farai a questo punto fare una mensolina perché lui dovete sapere a tutti i personaggi o quasi di fortnite no la collezione completa e adesso vediamo di completare anche questa se non finiremo con questo prenderemo un altro box che bello come si chiama tara un'altra donna oh si vedete tutta fasciata con un occhio verde io non li conosco eh ragazzi volevo mettere a fuoco se riesco eccolo qua bellissimo il mio personaggio preferito ambra oh ambra con un'altra donna veramente tutta femmina ragazzi volevo sapere cosa è successo quando è uscita era fortissima poi il giorno dopo con la treccia il giorno dopo l'hanno nerfata quindi non era più forte come prima l'ho trovata ah ho capito però era comunque devastante bella aspetta che ti faccio una foto con lei ragazzi sto proviamo ad indovinare il personaggio dalle secche cosa senti pippo? niente niente il silver no vabbè uno dei tre silver ma questa qua è raro che bello ragazzi perché guardate ci sono Frankenstein che stiamo leggendo guardate perché ci sono tre silver shelly ah dei gold e dei silver questi qua sono rari e i gold ci sono no vabbè che bello vabbè qua c'è il riflesso però ve lo faccio bellissimo così si vede guardate quanto è carino ma che bello che se lo trovi doppio questo mi anche perché io adoro il personaggio questo è Frankenstein praticamente non mi ricordo se si chiama si comunque riporta a quel personaggio ma che bello che è no questo qua lo vorratina bello no veramente questo qua beh se lo trovi doppio no vabbè quanto è bello cioè ragazzi è troppo carino il fatto è che tipo Jackie l'hanno fatta molto cartolizzata cioè l'hanno fatta molto cartolizzata si no 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 veramente beh molto fatti come li vedete nel videogame quindi veramente carini troppo belli allora ah insieme a questa collezione come vedete guardate all'interno del box c'è anche un magazine quindi per ogni bustina c'è questa bellissima fan collection eccolo qua tanti giochi attività test energia tutto relax videogiochi che passione ecco quindi qualcosa che può interessare no questo qua la stessa consistenza di Frankenstein dove sei curato allora vediamo un po' un'altra vana guardate si gold beh spacchettamento super fortunato corvo gold no che bello che è lo voglio far vedere bene mamma mia comunque ci stiamo riprendendo siamo tra tre maschi contro me e Pippo sta già meglio vero mamma mia che carino ragazzi che bello corvo io non l'ho mai trovato Pippo io direi spacchetta questo e poi andiamo a fare qualcosa su perchè vabbè sei malato ma hai di studiare la tua moglie scegli un cento no vabbè che spacchettamento ragazzi mamma mia se te vuoi portarci fortuna guardate che bello eccomi lui nel frattempo abbaia scegli un cento bellissima vorrei farla vedere bene un attimo la metto a posto eccola qui che riesco a farvela vedere in modo più nitido che bella che veramente è fortunatissimo questo spacchettamento ragazzi io l'ho trovata allora che sono sicura che è leggendario che bello però non mi ricordo il nome molto cute questa qua ah eh Serena eh non si ricorda più nome forse Serena comunque adesso questi li metteremo poi tutti in fila e tutti riordinati che belli che sono e io direi però Pippo capisco che sei malato ma devi darti da fare gli altri te li devi guadagnare in questa morniglia vado a fare i compiti ecco bravissimo recupera qualche compito va allora devi studiare ma invece lui è qui a giocare tra l'altro nel frattempo ne ha aperto un'altra non ha resistito io ho trovato Corvo e che Corvo con l'aria minacciosa ti fa fare i compiti abbiamo trovato il doppione guardate Corvo che guarda Pippo fai sti compiti anche lui abbiamo doppio Corvo che è più minaccioso però è più minaccioso cioè quello dorato è bellissimo questo è più minaccioso con i suoi colori a parte cosa ho da studiare eh infatti mettilo qua davanti che ti guarda e ti osserva allora cosa stai studiando di bello deve recuperare scienze temperatura dell'aria sì ah ok quindi avete fatto questa parte qua l'altitudine la vicinanza al mare come appunto la vicinanza al mare che non abbiamo finito che non abbiamo finito però inizio a studiare questa parte ok ho capito sì ma tu però ti distrai continuamente io te le faccio aprire solo se studi lo devo mettere in piedi ok vabbè poi le metteremo in una mensolina proprio in un loro angolo perché lì abbiamo tutte quelle di phone Fortnite là sopra ecco qua ecco lì dobbiamo creare una piccola lecina vedete il lama e poi mettere vabbè pokemon e adesso faremo un bell'angolo poi Brawl Stars veramente bella questa collezione allora guardiamo un po' che cosa c'hai da studiare fai una cosa continua a studiare io nel frattempo gli ho preparato guardate anche una bella tisana calda un bel tè caldo perché almeno con un bel buongiorno e almeno ti riprendi un pochino e ti schiarisci la gola anche se hai più che altro tanto catarra e tanta tosse studia un po' e poi continuiamo a spacchettare quindi chiamami appena sei a posto mamma prepara qualcosa a mangiare e si prosegue i morning routine dai su ti vedo un po' gira te ti vedo un po' ecco la goccia sulla testa di Pippo che non ha voglia di sé studia ok va bene bravo e stiamo già spacchettando perché ha finito i compiti ragazzi no pensavo che era un gold no ma che bella però non so come si chiama è una donna un uomo no è un uomo donna una donna poi i capelli fucsia sì direi sì infatti è la cosa oh che carina come si chiama ti ricordi? no non se li ricorda tutti Pippo però abbiamo qua ho visto una bellissima stringa fammela vedere ragazzi anche lui abbiamo il doppione no che bello questo lo voglio io io amo stiamo leggendo franche se lo trovo doppio stupendo allora questa guardate che bella ragazzi le apro tutte questo booklet all'interno della bustina cioè mi piace troppo è toro è toro è toro è toro leon leon ma tra l'altro ragazzi nemmeno un doppione leon che bello leon bene ma guarda che belli qua ecco volevo vedere se cont io inizio bello cont colt è stupendo con questo ciuffo ciuffo rosso dai andiamo avanti io ti segno quelli che hai trovato così vediamo quelli che ti mancano allora questo l'hai trovato ho trovato lui guardate quanto è bello no che bello come si chiama? boh 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 è facile ok dai segnale un po' sulla checklist quelli che hai allora ecco così vediamo quanti ne mancano e vediamo cosa trovi l'ho trovato si colt l'ho trovato vai vai lui l'ho trovato boh l'ho trovato mi manca nita b ok ok poi ho trovato questo no shelly non l'ho trovato no errore errore ho trovato la speciale questa lei questo no ce ne mancano ancora un bel po' eh si io voglio il cactus come si chiama già il cactus? spike spike ah il corvo lì? come si chiama? corvo non era difficile dai continuiamo a spacchettare wow guardate abbiamo trovato anche piper bellissima viandina sembra lara la nostra cuginetta allora andiamo avanti ragazzi ultimo ultima bustina quindi poi quante te ne mancano e qualcuno ti mancherà di sicuro anche lei mi manca lo so continueremo ragazzi mi piace questo tipo di spacchettamenti lo faremo magari mentre gioca a bros bb si chiama wow bellissima anche lui ha fatto benissimo lei o lui non mi ricordo no è lui secondo me c'è gli occhi da lui c'è i capelli da lui il ciuffo da lui è un lui quindi cos'è questo il chewing gum? si allora c'è ce ne mancano bellissimo veramente 3 4 5 6 7 8 dobbiamo prendere un altro box per spike assolutamente ragazzi me ne mancano mi aggiorneremo sulla collezione perché la finiremo e niente adesso direi che concludiamo questa morning routine perché ne fa tempo tra poco ma cosa? intenzione di mangiare il pigiama? si ma sto male si ma sto male vabbè un po' di toste ma rimettiti subito però ha studiato devo dire la verità quindi è a posto i compiti li ha recuperati un pochino e niente direi che puoi salutare i tuoi amici si e ragazzi state sintonizzati perché ci saranno nuovi video video comunque ce ne manca solo un gold e uno silver veramente hai trovato 4 orari quindi ragazzi ottimo e nessun doppione quindi correte in edicola perché è una bellissima collezione la consigli Pippo? si ragazzi è bello soprattutto per chi ha giocato a blue stars ecco infatti beh si di sicuro per gli amanti di blue stars ma non solo perché sono personaggi bellissimi magari vi avvicino al gioco benissimo quindi salutiamo e Pippo anche se è un po' acciaccato vi aspetta ad un prossimo video al prossimo ciao ragazzi a presto ciao a presto a presto rencontri a presto a presto Grazie a tutti.